Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial Ragazzi in questo breve tutorial vi spiego come laggare di meno su Steam Grazie all'opzione, se andiamo un attimo su Steam, impostazioni, interfaccia Qui c'è abilità a scorrimento fluido nel browser e poi c'è anche usare il rendering della GPU per i contenuti web Ovviamente questo ci permette anche di renderizzare tutta l'interfaccia di Steam Grazie alla nostra scheda video, ma se avete problemi di lagghi io vi consiglio di togliere questa spunta e fare ok e riavviare Steam Una volta fatto ragazzi, ritorniamo sempre su Steam, impostazioni, interfaccia Se in questo caso avete altri problemi di lag e caricamenti del launcher Vi consiglio di togliere queste spunta e di riavviare così Steam e il vostro PC Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial Ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao